Cresce la povertà in Abruzzo e l'abolizione del reddito di cittadinanza non è stata una soluzione positiva, visto che oltre 10.000 famiglie non percepiscono più alcun sussidio. Lo afferma Carmine Ragneri, segretario generale CGL Abruzzo e Molise, che chiede interventi alle istituzioni. La povertà in Abruzzo aumenta, aumenta sia la povertà assoluta che la povertà relativa. Questo dipende dal fatto che oggi o non c'è lavoro o quando c'è lavoro, questo lavoro è un lavoro povero, un lavoro sartuario, un lavoro malpagato. Dal nostro punto di vista è necessario che le istituzioni, dal governo nazionale al governo regionale, ai comuni, mettano in campo delle politiche del lavoro e delle politiche di sviluppo che possano aiutare a migliorare la situazione. Da questo punto di vista l'abolizione del reddito di cittadinanza per l'Abruzzo è stato un fatto grave, perché 10.000 famiglie hanno perso ogni tipo di sussidio, nel senso che non hanno più percepito il reddito di cittadinanza perché è stato eliminato e non hanno percepito né l'assegno di inclusione, né hanno potuto partecipare e prendere l'assegno per il sostegno, formazione e lavoro. E questo è derivato dal fatto che sono cambiati i requisiti, ad esempio si è diminuita la soglia reddituale e parimoniale che le persone dovevano avere per poter accedere a queste misure. E quindi in una situazione di povertà questo è un fatto grave, perché 10.000 famiglie sono state abbandonate a loro stesso. Tra l'altro invece coloro che hanno aderito alla nuova misura e hanno avuto accesso al sostegno e formazione e lavoro, beh anche qui dobbiamo dire che ci sono stati dei ritardi burocratici, per cui la misura è partita in ritardo e questo sussidio non è stato percepito per diversi mesi e poi di fatto non è stata messa in campo una formazione adeguata a consentire a queste persone poi di essere formati per trovare un nuovo lavoro. Quindi una misura che è stata sotto tutti i punti di vista una misura dal nostro punto di vista fallimentare. Bisognerebbe cambiare la misura a livello nazionale e con la Regione nel tavolo del lavoro dovremo lavorare per migliorare la formazione e il sistema formativo della Regione Abruzzo.